Più gli anni passano, più conquista successi. Dopo l'amarezza di Rio, Federica Pellegrini torna sul podio e lo fa nel migliore dei modi, conquistando la medaglia d'oro ai mondiali di nuoto in Vasca Corta Windsor in Canada, con una superba prestazione nei 200 stile libero, la sua specialità. Nella gara disputata questa notte, la campionessa di Spinea ha trionfato, segnando il tempo di 1 minuto 51 e 73. Una gara in rimonta dopo la partenza non velocissima. Per un po' ho pensato a quella dannata finale olimpica di Rio, ha commentato la Pellegrini. Soprattutto il pregare è stato difficile. Sono contentissima, ha continuato. Questa medaglia chiude il cerchio di una carriera. È il frutto del sacrificio e della voglia di non mollare mai che fanno parte del mio DNA anche a 28 anni. Per Federica è arrivata una medaglia d'argento nella staffetta 4% stile libero. E sono arrivate anche le congratulazioni del presidente Zaia. Federica Pellegrini è un inno alla forza di volontà, oltre che allo sport, ha commentato. Dopo Rio disse non finisce qui, ancora una volta è stata di parola e non ci sono parole per sottolineare degnamente quest'impresa. È il messaggio positivo che arriva a tutti i giovani che magari attraversano un momento di difficoltà. Per un essere umano e un atleta, tornare in vetta dopo le delusioni olimpiche, conclude Zaia, era una scalata di sesto grado, di quelle che a pochissimi riescono.